Appena si è diffusa la notizia della gravidanza della principessa Kate, i sudditi britannici hanno subito approfittato per scommettere su quello che accadrà. Si può puntare sul sesso del nascituro, sull'eventualità di un parto gemellare e ovviamente sul nome che riceverà il nuovo nato. Giorgio, Vittoria, Elisabetta, questi nomi diciamo così reali vanno per la maggiore, sono dati 10 o 12 a 1. Poi c'è chi scommette su nomi più originali, ad esempio abbiamo un Chardonnay dato 1000 a 1 che è anche la quotazione più vantaggiosa, credo che ci costerebbe almeno 100.000 sterline se decidessero di usare questo nome. Si accettano puntate anche su aspetti meno consueti, come ad esempio la modalità con cui l'erede reale verrà alla luce. Troppo snob per partorire, si dice così, non è vero, e dunque si può scommettere anche sul parto naturale o cesareo. Intanto la futura madre rimane in ospedale, dove si registrano anche scherzi clamorosi, come quello della giornalista di una radio australiana che è riuscita a farsi passare al telefono per la regina e farsi dare notizie sullo stato di salute della reale degente.